Erano riusciti a sottrare diversi cavi di rame da un'azienda della zona Asi di Molfetta, poi per poter fuggire con il bottino hanno dovuto asportare una ruota di scorta di un'auto parcheggiata in un'azienda, in quanto una delle quattro ruote del loro veicolo era danneggiata. Qui però sono stati scoperti da una guardia giurata che ha immediatamente allertato i carabinieri. Per questo motivo tre uomini, un 32enne, un trentenne, un 25enne, una donna, 34enne, e tutti di nazionalità rumena senza fissa dimora sono stati arrestati per furto aggravato continuato. L'intervento dei militari è avvenuto la scorsa notte in via Olivetti, dove una guardia giurata aveva segnalato il danneggiamento dell'unotto di due autovetture. Giunti sul posto hanno scoperto i quattro malviventi mentre erano in procinto di sostituire la ruota di scorta. La successiva perquisizione del veicolo da parte dei carabinieri ha permesso di rinvenire diversi cavi di rame provento di due furti, dei quali uno avvenuto in un capannone dismesso di una ditta di ristorazione. I quattro tratti in arresto su disposizione della competente autorità giudiziaria sono stati associati presso la casa circondariale di Trani.